buongiorno buongiorno ecco qui arrivato il primo giorno di scuola vero agitato sente freddo allora sveglia alle 7 alle 9 alle 7 ci siamo svegliati alle 7 tutti quanti raffaele si è svegliato abbastanza velocemente mi sono dimenticato a riprendere il nostro risveglio però vabbè lo sto dicendo qua io mi sono già preparata raffaele manca poco lo sto vestendo in ultimo perché sentiva veramente tanto freddo e quindi era sotto la coperta cioè tipo non è dicembre però è caldissimo qua da noi è caldissimo quindi oggi la bellissima giornata dobbiamo raggiungere la scuola materna dove ci vediamo tutti insieme bambini e genitori e maestra la maestra della scuola materna e quindi poi da lì partiamo tipo corteo e ci dirigiamo alla scuola elementare siamo pronti 123 ci vestiamo ea dopo eccoci qua la vestizione è stata fatta io ho preso come avete visto nel back to school ho preso il grembiolino con la cernierina così è più semplice da utilizzare sia per lui che per noi è velocissimo io adesso sistemo tutto velocemente ci dirigiamo verso la scuola materna voi nel frattempo iscrivetevi attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video e lasciateci un like a raffaele per il primo giorno di scuola ci stiamo dirigendo verso la scuola materna di raffaele siamo in macchina però dopo lasciamo la macchina andiamo a piedi fino alla scuola elementare vedo già tutti i bambini posizionati davanti all'esilo io spero di poter pre come si dice registrare qualcosa se non si vede ecco il viso dei bambini e cose varie quindi ci siamo ci vediamo dopo buongiorno eccoci qua al corteo ci dirigiamo verso la squadra ecco che siamo arrivati davanti alla scuola cerco di non prendere tanto quella lì e adesso aspettiamo l'entrata eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua Già è fatto. Raff, adesso ti chiama Raff. Raff, adesso ti chiama Raff, adesso ti chiama Raff. Raff, adesso ti chiama Raff, adesso ti chiama Raff. Raff, adesso ti chiama Raff. Raff, allora? Come è andata? Raff, adesso ti chiama Raff. Eccoci che abbiamo ripreso la macchina, Raff è uscito. Come è andata? Oddio ho messo la mano davanti. Come è andata? Bene. Avete fatto già i compiti? Avete studiato? Vi terrò aggiornate poi in questi giorni anche su Instagram. Ragazzi c'è un caldo che si muore, si muore. Quindi io vi saluto così. Questo è stato il suo primo giorno di scuola, però anche qui di questo non ho potuto filmare perché giustamente era pure pieno di bambini, quindi se riesco a poterlo accomodare un po'. E nulla, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina e lasciateci un like. Stanchissimo. Ragazzi ciao al prossimo video. Ciao a tutti.